attenzione questa non è un'esercitazione tenetevi forte andando spesso al cinema posso raccontarvi che circa due mesi fa era ancora ottobre quindi tre mesi fa iniziai ripetutamente a vedere due trailer di film parecchio discutibili uno di questi è anatar la parodia del celebre avatar di james cameron che mi chiedevo ma veramente uscirà una cosa di questo tipo chissà quando poi sono passate le settimane non se ne è saputo più niente fino a che ho scoperto che approderà nelle sale italiane dal 19 gennaio ne riparleremo ma adesso voglio soffermarmi sull'altro film non so quante volte abbia visto quel trailer ladri di natale ora io vi chiedo di fare attenzione alla locandina cioè guardatela bene sì state vedendo giusto c'è un tricheco in mezzo a delle persone c'è michael metzen e io ho avuto basta toglierla questa locandina paolo ho avuto il coraggio di andarlo a vedere a luci cinemas di bicocca quando pensavo che ormai avessero passato la pubblicità nelle sale inutilmente perché il natale è trascorso ecco che il film è arrivato nelle sale nel gennaio del 2023 che senso abbia chiederete voi non lo so vi posso solo dire che io sia una di quelle persone che vuol dar sempre fiducia ai lungometraggi è vero il trailer mi faceva pensare di trovarmi di fronte ad un qualcosa di orribile però mi sono detto che mi costa vedo tanti film ne parlo sul canale del resto ho scoperto poi che si trattasse di un film italiano diretto da diretto da tal francesco cinque mani quindi sono andato a vederlo in sala ero da solo non credevo di trovare chissà quante persone ma mi sono detto è un film per bambini qualche piccolino con i genitori potrei anche incontrarlo ed invece no ma vi voglio raccontare la situazione paradossale in cui mi sono ritrovato arrivo a luci di bicocca chi c'è stato saprà che non si vendono i biglietti manualmente ma ci sono ma ci sono le apposite macchinette quindi io sul display seleziono ladri di natale e per assurdo non c'era la locandina di tutti gli altri film in programmazione sì di quello no locandina non disponibile che bella sciapassare nemmeno un poster in tutto il cinema un cartonato pubblicità inesistente per sapere dell'esistenza di questo film uno sarebbe dovuto andare a vedere qualche altro così qualche altra pellicola sperando di trovare lo spot durante le pubblicità prima del film comunque entro in sala e mi sono trovato di fronte non lo so come descriverlo vi dico solo la durata un'ora e dodici quindi il tempo è passato anche velocemente la storia così a grandi linee è questa due ladri fra cui uno dei due è interpretato dal grande michael madsen mentre l'altro è interpretato da tom arnold e vi chiederete cosa ci fanno in un film italiano quasi indipendente non si sa forse avevano bisogno di soldi uno è travestito da babbo natale l'altro da elfo e hanno appena svaligiato un appartamento è la vigilia di natale la polizia è alle loro costole quindi si rifugieranno nella prima abitazione che troveranno di fronte a loro solo che in questa casa ci sono due bambini fratello e sorella la madre è una poliziotta che è uscita proprio per dar la caccia ai due delinquenti e loro non sapendo cosa inventarsi dicono di essere i babysitter i bambini ci crederanno inizieranno a relazionarsi con i due ladri tant'è che ad un certo punto frank uno dei due ladri tirerà fuori questo libro rubato nell'abitazione e sfogliandolo tenterà di far addormentare i bambini leggendo le storie della buonanotte fra virgolette così almeno poi potrebbero scappare lì prende vita l'animazione mista perché ciò che frank leggerà noi lo vedremo cioè queste pagine prenderanno vita ci sposteremo fra i ghiacci fra le montagne innevate faremo la conoscenza di queste volpi di questi uccelli che ce l'hanno con le volpi insomma l'animazione è un qualcosa di sconvolgente io capisco anche che il regista volesse fare qualcosa per i più piccoli anche con cuore io capisco che forse sotto ci sia anche la volontà di sorprendere i bambini e di fare un film italiano diverso perché in italia trovare un lungometraggio che unisca l'animazione al live action non è semplice non è facile solo che si resta o perlomeno resto perché ero solo interdetto dal momento in cui l'animazione per la maggior parte dei momenti è inguardabile quando appare quel tricheco che avete visto nella locandina cioè andavo indietro tipo vade retro satana la storia nella sua semplicità vuol mostrare poi i ladri che come è prevedibile riusciranno ad affezionarsi ai bambini e viceversa un bambino che tra l'altro in continuazione assieme a sua sorella fa capire di soffrire perché il papà lavora su una piattaforma petrolifera e non è potuto tornare per la vigilia quindi in questa ora e 12 il film ti mostra solamente loro che leggono il libro con questi inserti animati e vi voglio citare una scena perché è fra le più belle questa volpe che consegna pacchi andrà a suonare ad una capra che ha ordinato diverse cose la capra senza un apparente motivo inizia a scatarrare mentre parla sfuta catarri proprio del moccico verde per dirla alla toscana e c'è questa scena simile matrix in cui la volpe schiva le caccole e lo sputo e il moccico della capra veramente e io mi sono detto ma perché ma per quale motivo in continuazione poi cambiava anche l'aspetto del formato perché nei momenti in live action chiamiamoli così c'erano le bande nere quando ci si sofferma sull'animazione le bande nere spariscono però voi immaginatevi bande nere tolte le bande nere bande nere tolte le bande nere perché in continuazione ci sono questi contrasti questo montaggio alternato fra il film animato e il film non animato quindi le bande nere tornano vanno via tornano vanno via tornano vanno via e anche le palpebre fanno su giù su giù su giù allora per trovare un minimo pro in questo bruttissimo purtroppo film a cui io comunque ho voluto dar fiducia quando sono andato alle macchinette per comprare il biglietto nella trama sotto la locandina non disponibile c'era scritto che ci si trovava a roma e io già lì ho fatto due più due ho detto ma come già nel trailer questi sono inglesi che che senso ha che cosa giustificheranno se il film è ambientato a roma come lo giustificheranno che c'è una famiglia inglese può darsi ma che tutti sì il film l'ho visto doppiato ma originariamente loro parlano in inglese devo dire che in ladri di natale non si faccia mai riferimento al fatto di trovarsi a roma perché è tutto svolto in una casa il film quindi potrebbe essere anche new york meno male almeno un pregio non capisco però perché nella trama abbiano dovuto far riferimento a roma però se questo film avesse avuto minimamente un budget superiore se l'animazione fosse stata ben realizzata se registicamente parlando ci fosse stato qualche guizzo in più così come nella sceneggiatura poteva essere anche un prodotto dignitoso per i bambini il problema è che è un vorrei ma non posso con un finale che adesso vi rivelo che mi ha fatto dire stiamo scherzando allora partiamo dal presupposto che vince michael madsen quando entra in casa e va in cucina nota la foto del padre dei due piccoli la prende e non la fa vedere a frank io ho detto vuoi vedere vuoi vedere che c'è una parentela perché quando la moglie sente il marito in videochiamata prima di uscire a compiere il suo dovere da poliziotta lei gli dice ti manca tuo fratello e quindi una cosa talmente buttata lì in faccia allo spettatore che ho detto c'è una parentela ed infatti poi scopriremo che tom arnold frank sia davvero il fratello del padre che dalla piattaforma petrolípera caramba che sorpresa torna la sera e anche lì cioè vi rendete conto che questi due ladri dopo aver svaleggiato a un appartamento putacaso in una città che dovrebbe essere grossa sono finiti per puro caso nella casa del fratello di frank cioè ma io io volevo anzi ho detto ma frank non si rende conto che questi siano i suoi nipoti magari non li ha conosciuti perché è stato in carcere per anni ok ma saprà dove abita il fratello ma saprà con chi è sposato ha visto la foto della moglie in vesti di poliziotta quindi bisogna sospendere l'incredulità e ci sono sai quelle inquadrature a prova di scemo quando i bambini dopo che la madre se ne va e dice loro chiudete la porta la lasciano aperta non la chiudano con con il catenaccio diciamo e c'è l'inquadratura zoomata proprio sulla porta non chiusa col chiavistello perché te lo devi te lo devi vedere no spettatore quel momento quel frame in cui la porta non è chiusa non è che si percepisce lo devi far vedere con la col primo piano così inutile su una porta vabbè indipendentemente da questo si vorrebbe andare incontro ad una sorta di rifacimento malfatto di mamma perso l'aereo sul finale e io devo dirvi la verità dicevo ma perché quando in italia si tenta di osare non lo si fa quando si ha il budget in primis per poterlo fare e non lo si fa con cognizione di causa perché ora io sono un po masochista sono un amante del cinema dalla a alla z e quindi ho voluto dare un'opportunità a questo film e dentro di me speravo dai paolo magari arrivi a girare la recensione dirai la locandina è orribile ma il film mi ha sorpreso è successo tante altre volte io non sono uno di quelli che se un film non gli ispira non lo va a vedere a me piace prima vedere poi giudicare e anzi io posso scherzare lo saprete ma mi auguro che francesco cinque mani possa avere un futuro radioso cinematograficamente parlando mi dispiace che questo ladri di natale come si evinceva dal trailer sia uscito così male ma proprio male male con questo finale in cui la madre ad un certo punto torna dopo che troverà la babysitter che è stata cacciata in malo modo dai due ladri quindi la madre torna a casa dopo che la babysitter le rivela guarda io ho provato a suonare ma questi due mi hanno cacciato caspita i due che stiamo cercando sono a casa mia dopo un'altra scena perché me ne vengono in mente mille comunque lei arriva a casa e io ho detto ora riconoscerà il fratello di suo marito si saranno conosciuti in passato no non lo riconosce ho detto boh va da sola a casa di fronte alle guardie la babysitter dice ci sono i due malintenzionati in casa vostra lei va da sola va da sola come se gli altri non avessero sentito oh oddio i bambini ma ci ha preparato la cena e la torta ma veramente babbo natale vi ha preparato la torta e questo è il motivo per cui la poliziotta si perita ad arrestarli io va bene i buoni sentimenti va bene un film per bambini però ho detto ora voglio vedere come se la giocano perché veramente faranno concludere la pellicola con lei che non li arresta perché alla fine sono stati buoni con i bambini l'elfo e babbo natale anche perché si sono rivisti perché poi il film vorrebbe farti credere che tutta la parte animata sia importante per i protagonisti perché leggendo quel libro che noi vediamo animatamente si immedesimano in quelle volpi oppure nell'orso oppure nel tricheco che si può essere buoni insomma la mamma si perita ma poi il film siccome in sceneggiatura avrà capito che la soluzione finale non fosse così ben scritta decidono di far sì che la madre dica no voi avete sbagliato comunque solo che la bambina porta il saccone che i due avevano dopo aver derubato l'altra casa per dire ma avete sbagliato sacco ma qua dentro non c'è niente quindi allora per giustificare il fatto che non li avrebbero mai arrestati ci fanno credere che due ladri che oggettivamente basti vedere l'inizio per capirlo scappano con la refurtiva casualmente sul finale dobbiamo renderci conto che abbiano preso il sacco sbagliato quindi stavano rubando e non si sa perché avranno appoggiato il pacco da qua il sacco da qualche parte ne hanno preso un uguale identico dove dentro non c'era niente ma della stoffa della rubaccia ho detto mamma mia belle le mie soluzioni di sceneggiatura con il primo piano dei due delinquenti che ormai sono diventati buoni ma lo dovevi prendere tu no tu allora tu ti sputo pu 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 e si iniziano a sputare in faccia con poi ciliegina sulla torta il fratello di di frank che ritorna il padre dalla piattaforma petrolifera che anche lì a me fa ridere un'ora prima in webcam dice guarda non posso tornare è da tutt'altra parte del mondo nemmeno dopo un'ora è lì ma si sospendiamo l'incredulità e ho detto ora dirà alla moglie è mio fratello e la moglie dirà invece quando i due si interfacciano la moglie li guarda come se già lo sapesse e allora io non capisco perché quando sei entrata in casa non lo conoscevi e ora sai che è suo fratello ma se lo sapevi perché non hai avuto un minimo di esaltazione di anche di esitazione perché sai che era in carcia ho detto ma perché non te lo spiegano lei è sempre con lo stesso sguardo ma come non resti sorpresa il fratello di tuo marito allora già lo sapevi prima vabbè non ci facciamo domande ma abbiamo trovato un altro libro leggiamolo insieme e poi aprono il libro escono fuori tutte le figure terribilmente animate escono fuori e urlano così in giardino tanti auguri buon natale tanti auguri e il film finisce ma la scena più bella e poi vi dico che vabbè questo ancora non lo rivelo la scena più bella è quella in cui i due ladri in casa ovviamente attendono che le pattuglie vicino all'abitazione se ne vadano per poter scappare per di più sanno che i bambini non se ne vogliono andare a letto quindi sono costretti a leggere questo libro loro che per tutto il film aspettano che la polizia se ne vada ad un certo punto io ve lo giuro non ci volevo credere quando la babysitter che è stata cacciata in malo modo torna con i due fratelli perché non è stata comunque pagata sapete cosa fa frank per farla andare via chiama una guardia chiama un poliziotto ve lo ripeto loro erano andati in quella casa per aspettare che la polizia se ne andasse perché sono ricercati frank per far andare via la babysitter con i due fratelli arrivata per fargli brutto chiama un poliziotto e per far credere che sia la padrona di casa si veste da donna con una parrucca terribilmente finta con un vestitaccio cioè palesemente un uomo non è la signora madre dei due bambini ma poi ti stai recando tu poliziotto nella casa di una tua collega non è una casa qualunque una casa di una tua collega e tu accetti che questo uomo bruttissimo travestito da donna ti dica aiuto portate via queste tre persone mi hanno minacciata io non ci volevo credere non ci volevo credere e poi un altro momento secondo me eclatante del film è quando e poi questa cosa si dilunga per tutta la sua durata il nostro vince tenta di rubare inutilmente il cellulare al piccolo liam il protagonista e io mi chiedo ok tu vorrai rubare quel cellulare per non permettergli di chiamare la madre ma tanto non lo stava facendo però non mi far vedere per un'ora e dieci la stessa scena con primo piano del cellulare una mano che cerca di prenderlo e il bambino che lo toglie a parte il bambino stupido perché lo lasci in bella vista tienilo in tasca se hai visto che dall'inizio te lo stanno rubando però io non dovrei farmi domande questo è ladri di natale ladri di natale io nemmeno dieci giorni fa ho caricato la mia flop 30 e già ho un film adatto per la flop 2023 ma dovrebbe prendere almeno dieci posti e vi ricordo che giovedì esce anatar ora il video si potrebbe considerare anche terminato però io non vi ho detto una cosa come nelle migliori storie c'è il colpo di scena vi ricordate quando all'inizio di questo video ho fatto riferimento a due film che da mesi mi tormentavano in realtà i lungometraggi erano tre il prossimo di cui voglio parlarvi non avrò la fortuna o la sfortuna di vederlo perché a differenza di ladri di natale di anatar non è uscito al cinema seppur il trailer io l'avessi visto e la cosa più sospettosa è che vedendo la locandina che fra poco vi mostrerò sembra quasi che sia identico al ladri di natale ve lo ripeto identico e questa cosa mi spaventa ecco a voi aiuto è natale sì c'è richard refus come in ladri di natale c'è michael madsen sì ci sono due bambini presumibilmente fratello e sorella e sì c'è un tricheco e ci sono gli stessi animali il font è brutto allo stesso modo anzi sembra proprio uguale solo che di questo film che cercando su internet c'è scritto sarebbe dovuto uscire dal primo dicembre del 2022 non ce n'è traccia quindi io concludo qua la mia recensione di ladri di natale chiedendovi se ne sapeste qualcosa in più se sfortunatamente qualcuno di voi si è imbattuto in aiuto è natale perché io non ne so nulla ma la mia malsana curiosità mi spingerebbe a pensare che sarebbe dopo vederlo vi saluto vi ringrazio e vi mostro ancora una volta questa cosa qua fermi fermi ragazzi non andate via perché dopo aiuto è natale c'è un ennesimo colpo di scena sono passati due giorni da quando ho registrato la recensione di ladri di natale la stavo editando per poi caricarla ora come ora per gli abbonati del mio canale e mi sono detto mentre premiere esportava ma andiamo su facebook a cercare qualche informazione in più sul regista francesco cinque mani perché comunque ok il suo film non mi sarà piaciuto ma ha lavorato con un grande attore come michael madsen scoviamo qualcosa di più ecco che mi appare il suo profilo facebook dove noto che nel 2019 diresse la rosa velenosa un film che non ho visto ma che è disponibile su prime video con protagonisti john travolta morgan freeman ma anche tenetevi forte il nostro amato brandon fraser e quindi mi sono chiesto caspita che cosa interessante ma no non sto girando questo video in più per dirvi della rosa velenosa mentre chiudevo il suo profilo facebook questa è solo un'anticipazione una piccola chicca ecco che mi imbatto in questo poster sì ragazzi esiste un seguito di ladri di natale che si intitola la buona strega del natale come vedete tom arnold torna mentre non c'è più michael madsen è sostituito da william baldwin il fratello di alec baldwin ora non so se interpreta lo stesso ruolo se sarà un nuovo personaggio però sono rimasto incredulo quindi capite voi cioè pensate la bellezza non è ovviamente colpa di francesco cinque mani ma io ho scoperto che questo secondo è disponibile su prime gratuitamente tutti potreste vederlo e che sia lì già da un po quindi capite la meraviglia far uscire prima il secondo su prime e poi il primo in sala non è colpa del regista certamente ma delle distribuzioni perché poi informandomi il primo sarebbe dovuto uscire nel 2021 quindi ci sta che nel 2022 sia uscito il secondo però per una serie di eventi per assurdo è uscito il 2 e poi l'uno non so niente di questa storia non so cosa accadrà c'è un trailer che vedendolo su youtube sembrerebbe anche migliore rispetto al precedente forse si è fatto dei passi avanti poi mi direte voi se volete che ve ne parli successivamente in un altro video ma non è finita perché più si scava e più di acqua se ne trova perché esiste anche natale con i puffins lo so anche voi vi starete domandando ma è l'inizio di una nuova saga che tutti noi non conosciamo ma era talmente assurda la cosa perché poi più cercavo il suo nome su internet più mi apparivano questi film fino a che sono arrivato su un determinato sito che proprio mi mostra le locandine di tutti i lavori di francesco cinquemani fra cui anche vote for santa ennesimo capitolo della saga e tenetevi forte sherlock santa cioè noi stiamo parlando di svariati lungometraggi c'è scritto che in lavorazione c'è anche kid santa e billy's magic world tutti legati da questa componente natalizia informandomi meglio su questo sito ho scoperto grazie anche a ciò che fra poco vi leggerò ma posso cercare di riassumervelo che la iervolino e lady bacardi entertainment spa questa società di produzione cosa ha fatto ha dato in concessione a diverse case di produzione cinematografiche fra cui minerva che produce il film insieme a fenix entertainment l'altra casa di produzione le ip quindi le proprietà dei personaggi animati di proprietà di questa società di produzione di cui vi ho parlato poco fa per la realizzazione di vari film a tema natalizio quindi come c'è scritto sul sito questi film riprendono un po quei progetti diventati celebri negli anni 90 grazie all'interazione di attori in carne ed ossa con personaggi animati ecco perché aiuto e natale è così simile a ladri di natale perché è stata la società di produzione ilba group film production che ha dato i diritti di quei personaggi sia fenix entertainment sia minerva pictures e da lì tutti hanno fatto un qualcosa di similare poi sul sito si unisce tutto in questo grande calderone e chissà quanti ancora ne sforneranno voglio veramente bene a francesco cinque mani perché a me ma chi sono io chi se ne frega di paolo innocenti a me non è piaciuto ladri di natale non è piaciuto però come vi ho detto io ho percepito cuore ho percepito la voglia di fare un qualcosa per i bambini che poi ahimè è uscita come è uscita per quel che mi riguarda ma io preferisco di gran lunga lo voglio dire dei film come questi che almeno ci provano seppur l'abbia trovato bruttissimo ma almeno ci provano che quei film fintamente autoriali con la puzza sotto il naso tutti per benino tecnicamente parlando che arrivare alla fine è come tirarsi una martellata sui testicoli quindi viva la saga di francesco cinque mani anche senza averla vista anche se forse brutta forse non mi piacerà forse saranno tutti all'altezza dei ladri di natale o anche peggio ma che bellezza cioè questi sono i colpi di scena e io li vorrei vedere ora li vorrei vedere in questo momento quindi francesco cinque mani sappi che il tuo ma poi quando vedrà mai questo video il tuo film non mi è piaciuto ma queste scoperte che nel che nemmeno nel codice da vinci mi inebriano veramente non c'è più il tricheco in locandina quindi è un qualcosa già questo di migliore ma voglio vedere dove si andrà a parare ragazzi ora il video è finito davvero spero non ci siano altre sorprese però ditemi voi sono nelle vostre mani da me dal tricheco dai ladri di natale da francesco cinque mani che caspita comunque ragazzi io io scherzo perché il film non mi è piaciuto ma ha diretto john travolta ha diretto morgan freeman ha diretto brendan fraser ha diretto tom arnold ha diretto michael madsen alla fine il bischero sono io che do soddisfazione a tutti i film anche quando non mi piacciono però è proprio questo il bello di condividere con voi gioie e dolori quindi alla prossima ora è finito basta 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 basta